Il paziente esperto e opati negli anni è diventato una figura sempre più rilevante all'interno dei processi di farmacologia e outcome research. Ormai la figura del paziente è presente in tutti i processi regolatori, è presente in tutta la parte scientifica che riguarda anche semplicemente la costo efficacia di un farmaco e di una tecnologia sanitaria. Il paziente esperto è sicuramente qualcosa che arricchisce il processo di HTA e consente un miglioramento della prospettiva del paziente, dell'inserimento all'interno di questi processi della prospettiva del paziente. La possibilità di ricorrere a pazienti esperti che conoscono quindi tutta la parte di processo di regolamentazione, di HTA, di processo di sviluppo di un farmaco è sicuramente quello che mancava oggi alla farmacoeconomia e ai processi di HTA più in generale.